si tratta di un gruppo di artisti espressionisti tedeschi il cui nome intendeva esprimere la fede dei suoi membri nell'arte del futuro verso la quale le opere costituivano un ponte il nome di ebruche tradotto significa proprio ponte i loro soggetti consistevano principalmente in paesaggi e composizioni di figure soprattutto nudi all'aperto lo stile pittorico con cui erano trattati era molto carico si serviva di colori forti e spesso non naturalistici e di forme semplificate energiche e spigolose c'è un senso di ansia e inquietudine che traspare nelle opere di questi pittori che spesso erano quasi privi di una formazione accademica e professionale furono influenzati non solo dall'arte tardo medievale tedesca ma anche dall'arte dei popoli primitivi la xilografia diventò una delle tecniche predilette al gruppo perché è particolarmente adatta nella resa dei forti contrasti cromatici e dei tratti deformati tipici dell'arte di questi pittori ottennero presto i primi riconoscimenti ma iniziarono a perdere l'identità di gruppo mano a mano che gli stili individuali si facevano più evidenti i fondatori furono quattro studenti di architettura fritz bleil eric haeckel ernst ludwig kirchner e carl schmidt rotluf anche se altri artisti si aggiunsero in tempi diversi come emil nolde max peckstein e otto miller die bruche nacque ufficialmente nel 1905 per sciogliersi otto anni dopo nel 1913 poco prima dello scoppio della grande guerra i divari tra gli artisti divennero sempre più grandi e fu questa la causa principale della loro separazione il gruppo prese vita a dresda ma coinvolse un po tutta la germania nel 1911 tutti i membri della bruche si spostarono a berlino centro di maggiore vivacità culturale i loro scopi erano vaghi ma inizialmente intendevano rompere con le aride convenzioni della borghesia e creare uno stile pittorico radicalmente nuovo più in sintonia con la vita moderna ad ogni modo il gruppo diede un forte impulso all'espressionismo in germania se il video ti è piaciuto metti un bel like lasciami un commento condividilo con i tuoi amici ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video ciao